Il più cordiale saluto da parte mia, benvenuti all'ora d'aria, a quest'altra trasmissione vi presento subito gli ospiti che sono Andrea Manella dell'Alpa CGL, imprenditore agricolo di Marsala, ma abita a Petrosino, dico bene, grazie per essere nei nostri studi, Giuseppe Gambino di Alcamo, funzionario dell'assessorato regionale dell'agricoltura, lo abbiamo anche spesso conosciuto nelle altre trasmissioni, nel Tg per il mondo dell'agricoltura. Parliamo di agricoltura per tanti motivi, l'agricoltura un po' bistrattata, un po' dimenticata, quasi che non esistesse, per certi versi anche distrutta e devastata da politiche spesso non condivise dagli agricoltori, sono tante le cose, è un mondo complesso, però ci siamo un po' dimenticati tutti, tranne forse gli operatori del settore, che il cibo ci viene dalla terra. Sì, effettivamente è così, a noi sembra che giustamente, siccome siamo abituati ad andare al supermercato, normalmente quando vediamo lì il cibo, la frutta, sembra che è arrivata, è stata lì o è direttamente così. Effettivamente non è questo. Per quanto mi riguarda, poco fa diceva lei, imprenditore agricolo, io provengo di una famiglia agricola, mio papà è ancora, anche se ha 80 anni, va in campagna e mi occupo del settore dell'agricoltura attraverso il nostro caro della CGL con tanta passione. Diciamo che negli ultimi anni ho preso pure che cosa significa esattamente impegnarsi e occuparsi d'agricoltura. Guardi, significa che dietro al nostro cibo, al mangiare quotidiano, c'è tanta fatica, c'è tanta passione, perché i nostri agricoltori sono persone che hanno fatto questa attività con tanta passione e noi naturalmente, in modo generale, possiamo dire che non capiamo questo, che cosa c'è dietro al cibo. Non capire questo significa pure non apprezzare la qualità del prodotto. Noi nello specifico abbiamo un'improvviso di trapa, noi parliamo esattamente del settore più complesso e del settore vitivinicolo. Quindi è una cosa che io ho cercato più volte di capire e mi sono interrogato come mai alcuni settori dell'agricoltura, alcune cantine, che sono le cantine private, fanno business, crescono, acquistano immobili, aumentano il numero delle persone magari al lavoro, vendono, imbottigliano sempre di più, nel frattempo le cantine stanno chiudendo tutti. Io ora non so la situazione di Alcamo, ma posso dire... Sono persone diverse, sono persone diverse, ma noi abbiamo delle cantine importanti, una delle cantine più importanti è la Cantina Europa, che ha circa 2500 soci, però dobbiamo dire che il prezzo che ogni anno ricevono gli agricoltori non pagano neanche la giornata di lavoro. Quindi l'imbrezzatore che dovrebbe essere l'imbrezzatore non riesce a portare neanche la giornata di lavoro effettiva. È un settore marginato? Lei intuisce questo? Non è un settore marginato, è un settore che c'è tanto da cambiare, c'è tanto da fare, io credo che la politica se ne dovrebbe occupare, quindi l'assessorato se ne dovrebbe occupare, poi diciamo nello specifico rispetto a alcune cose, però non se ne occupa. Mi dovrebbero spiegare, mi dovrebbero spiegare, perché sono quelle, come dire, strutture privatistiche, sono le cooperative, quindi sono nati 30 anni fa, ma ci dobbiamo noi interrogare, come mai tante volte, quindi non parlo, diciamo, di tutta, come dire, non posso parlare di tutte le cantine, ma ci sono alcune cantine particolari che io, perché li ho frequentati anche quando non mi occupavo di agricoltura direttamente in quanto imprenditore agricolo, in quanto, come dire, persone interessate, vedevo che la cantina magari, come dire, va continuamente a fare debiti e il presidente della cantina magari qualche volta ha portato qualche risultato in più, c'è il senso che ha mantenuto la famiglia in un certo modo, i figli li hanno studiato e mentre gli agricoltori, come dire, stanno mettendo i fanno, gli agricoltori stanno mettendo i fanno, si allontanano, si allontanano, sento, No, grazie, io volevo concludere dicendo, rispetto a questo ragionamento, che l'agricoltore oggi, noi abbiamo veramente una serie di difficoltà, perché rischiamo pure di non trovare più nulla, diciamo, del nostro prodotto, della nostra provincia, gli agricoltori hanno la media di età è 75 anni, non so successivamente chi lo deve coltivare questo terreno, tra qualche anno. Sì, perché quando ci riguarda, possiamo dire, su mille agricoltori che sono associati magari all'Alpa Cigelle, possiamo dire che quest'anno, l'anno scorso, rispetto anche se le norme europee hanno incentivato un pochettino ad entrare, l'imprenditore agricolo giovane a farlo entrare nel settore, però abbiamo pochissimi giovani che si occupano, anche se c'è una disoccupazione molto elevata nella nostra provincia, pochissimi giovani e non ha fatto che si avvicinano nel settore. Giuseppe Cammino, lei peraltro è anche un enologo e da tempo si occupa di queste questioni, quindi la ben viva, la situazione, anche se è un territorio diverso rispetto al Marsalese. Diciamo che la cooperazione nasce negli anni settante, siamo un po', io conosco anche il Marsalese perché ho studiato a Marsala, ho operato in provincia di Siracusa dove ho fatto l'enologo, un'altra Sicilia dove l'agricoltura era stata sostituita dall'industria petrolchimica con grandi disastri che abbiamo visto, anche se là c'è stata pure molta resistenza. Cosa volevo dire? Sono dei dati contrastanti, nel senso che la volta scorsa abbiamo insediato circa 1.800 giovani, cioè su 3.000 domande, così do anche dei dati per dire che c'è questa volontà da parte dei giovani di sostituire un'agricoltura che va invecchiando, però secondo me il limite è che anche il giovane deve mettersi assieme, cioè deve creare rete, faccio l'esempio degli agriturismi, cioè se l'agriturismo rimane un'azienda a se stessa che non si collega con la cantina, con l'oleificio, con il caseificio e noi non andiamo a consumare i prodotti della nostra terra e quindi riscopriamo la dieta mediterranea che è proprio caratteristica del Mezzogiorno d'Italia e poi la cooperazione, quindi mi riaggancio al sistema vitivinicolo, è rimasta un po' agli anni 70, cioè quella dell'ammasso, cioè non ha fatto il salto di qualità come hanno fatto invece tantissime aziende anche nel Trapanese, private, dove hanno attinto ai fondi che possono attingere attraverso appunto lo CM Vino, dove abbiamo non solamente per l'ammodernamento delle aziende agricole, ma anche per l'esportazione in paesi terzi, quindi comunicare, divulgare, questa è un po' l'attività che io in questi anni ho svolto, quindi noi siamo dei tecnici e quindi sicuramente l'informazione, la formazione, la comunicazione attraverso la divulgazione e quindi dei bandi e sicuramente questa è una provincia dove arrivano più finanziamenti rispetto ad altre. Abbiamo visto con la misura 121 dove abbiamo un parco macchine e quindi l'innovazione attraverso anche le vendemmiatrici, faccio degli esempi così per essere concreti, quindi abbassare i costi di produzione è la grossa novità del nuovo PSR perché noi abbiamo fatto degli incontri, abbiamo avuto il piacere di coordinare l'attività in provincia di Trapani, presso la Camera di Commercio, c'era una giornata fredda del mese di febbraio, è stata la riunione più frequentata, più partecipata a livello regionale. Ma 1800 giovani operativi? Sì, sono 1800 giovani che si sono insediati in tutta la regione siciliana. In tutta la regione siciliana. Sì, e vi posso assicurare che fra le province di Trapani e Catania, questi sono i poli, dove c'è questa volontà, non solo, è una provincia dove non si vendono le proprietà fortunatamente, cioè le aziende soffrono tantissimo, ma noi dobbiamo avere la fiducia e la speranza che ora è stato messo anche il discorso economico, cioè non possiamo continuare a finanziare magari le aziende marginali, è bene associarsi, ci possono essere degli strumenti, io credo tantissimo della cooperazione perché ci ho lavorato, e nello stesso tempo far sì che la fermentazione e la polverizzazione, questo è un altro problema, un dato di fatto, e là occorrerebbero degli incentivi, secondo me, da parte dello Stato, per esempio nell'accorpamento, perché quando si fa un atto in passaggio è quindi capire veramente chi rimarrà in agricoltura, un po' come avviene nelle agricolture del nord Europa, però ecco, i nostri giovani, e posso fare degli esempi, abbiamo finanziato in provincia di Trapa, perché anche noi siamo poi l'organo di controllo per quanto riguarda i finanziamenti, abbiamo visto tanti giovani che hanno investito ad esempio nella filiera olivicola, ma anche in quella vitivinigola, che rimangono ancora i capisaldi per quanto riguarda le due province, diciamo che le due realtà economiche di Marsala e di Alcamo è dove ancora la viticoltura resiste, per esempio rispetto alla Valle del Belice, dove è rimasta un po' l'olivicoltura. Questo lo dico con il fatto di panorama, dati statistici. Io il resto perpresso, perché il settore, quindi parliamo degli investimenti, si parlava poco fa degli investimenti pubblici che ci sono stati finanziamenti, quindi parliamo del periodo 2007-2013, credo, giusto? Quindi PSR 2007-2013, che i fondi principali dell'Unione Europea li stabilisce, quindi li dà la regione in questo modo, quindi la regione si occupa, dovrebbe fare i bandi, fa i bandi, poi arrivano magari in modo relento, quindi anche su questa cosa, i bandi che si aspettano, diciamo meglio, o gli agricoltori non arrivano mai al bando che è il loro server, dal mio punto di vista, ci sono sempre solo i dinoti che fanno investimenti attraverso i finanziamenti pubblici europei. Ma comunque questo è il mio punto di vista, io dicevo poco fa, quindi questa è rispetto alla vecchia normativa 2007-2013. I bandi quando arrivano il grosso del finanziamento va a grossi aziende? Io noto, noi abbiamo fatto un paio di mesi fa un'iniziativa, quindi promuovendo il bando successivo, quindi la nuova programmazione che è quella 2014-2020, l'abbiamo fatta a Marsala, all'Istituto Agrario, proprio una bella iniziativa, allora abbiamo invitato il dirigente dell'assessorato regionale, però poi per impegni non ha potuto partecipare. E dico che cosa viene fuori da quella discussione? Viene fuori che l'agricoltore non riesce mai a capire cosa deve fare per accedere a un finanziamento. Parlo io dell'agricoltore quello tradizionale, quello che la mattina si alza, va in campagna, che magari ha due dipendenti in agricoltura, va in campagna e quindi... Che ha un piccolo apprezzamento. Che ha un piccolo apprezzamento. Un piccolo medio apprezzamento. Un piccolo medio apprezzamento. Parliamo di un'azienda di 5, 6, 7 ettari, quindi questi sono i piccoli apprezzamenti. Non parlava di accorpamento. No, io ora infatti questo ci voglio arrivare sull'accorpamento, ne voglio parlare nel senso che la nuova politica europea, come dire, ormai si muove su queste linee, diciamo sull'accorpamento. E' sulla filiera, scusate, l'accorpamento e filiera. Ma hanno funzionato le filiere, poi arriva di nuovo a lei, un attimo, hanno funzionato le filiere. La filiera ad oggi no, ora quasi viene imposto, diciamo, che si darà più conteggi, almeno dalle griglie. Io ho concluso, io ho concluso, io ho concluso, io ho concluso, rispetto a quella iniziativa che noi abbiamo fatto, io ho concluso, perché ero il relatore in quella iniziativa, ho concluso a dire al, dicevo, come dite, all'organo che doveva dare una risposta, ora magari come dire, c'è stata l'occasione, anzi, all'inizio non l'ho detto, vi ringrazio per l'invito. No, no, grazie a voi. Quindi vi ringrazio per l'invito perché, come dite, è fondamentale. Io ho detto, ma l'animazione chi la fa in agricoltura per i bandi? Chi la deve fare questa animazione? Dal mio punto di vista lì possiamo, è una discussione complessa, dice che cosa è l'animazione? L'animazione è, come dite, come fa? Devo unire la domanda e l'offerta. La domanda è quella che viene all'aggoltore, perché c'è tanta domanda in giro, dal mio punto di vista, però la gente, come dite, non capisce esattamente, viene solo, conosce il numero, ci sono 50 milioni di euro di finanziamento dell'Unione Europea sull'aggoltura e poi non riesce, non raggiunge secondo me l'obiettivo, anche se vorrebbe fare. Poi ci mettiamo pure in un'altra discussione che, come dite, non è che tu sei un venditore agricolo, hai la buona volontà e non hai soldi e riesci a fare il venditore agricolo. Da questo punto di vista, cioè non è che c'è il finanziamento al 100%, c'è stato il finanziamento al 50%, al 70% a fondo perduto, quindi il 30% deve essere messo. C'è anche che non arriva al finanziamento? C'è pure quando non arriva, c'è pure quando non arriva. Io ho avuto un'esperienza dal riguardo, perché se no iniziamo tutti, ma voglio finire il discorso di prima, che succede? Se io sono in venditore agricolo, ho 10 ettari di terreno, mi danno il 70%, ci vuole il 30%, magari mio papà per questione non ha avuto delle fortune, non è riuscito ad andare avanti e quindi non ho soldi, ci vuole il 30%, questo 30% che lo deve mettere. Quindi la regione dovrebbe o doveva, e credo come direi, il danno ora c'è, perché anche la nuova programmazione, non è che se è programmato di fare gli accordi con le banche, dove diciamo senti, il 30%, cerchiamo di fermarci su questa parte che deve mettere l'imprenditore agricolo. Perché io il 70% me lo dava lo Stato, il 30% lo devo mettere io, se io non ce l'ho come faccio a fare il meditore agricolo? Deve ridurre? Che succede, cammina in questo caso? Lei può dare forza delle risposte? Allora, come tutti i finanziamenti, i finanziamenti è una parte, a fondo perduto, una parte deve mettere l'investitore. Il discorso, secondo me, per quanto riguarda l'animazione che noi già abbiamo fatto attraverso i nostri uffici e continueremo, penso, a fare e poi nello stesso tempo bisogna, e questo è lo strumento, per esempio, che si adotta per i Gallo, altri strumenti di partenariato pubblico e privato, perché le convenzioni che può fare è la Regione che ha fatto, per esempio, per cambiare l'agrare con gli istituti, poi è un fatto privatistico, cioè il sistema bancario è un sistema a sé, però se noi riusciamo a mettere insieme le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionelle di categoria, il mondo appunto creditizio, in maniera tale che gli investimenti devono essere produttivi, cioè io non posso andare a fare degli interventi e se poi magari la mia azienda, perché piccola, ecco perché dico vediamo se riusciamo in forma associativa anche temporanea, questo potrebbe essere uno strumento, non solo, invece di far partecipare al bando 10 produttori con 5 ettari ciascuno, uno già diventerebbe un'azienda, per fare un esempio concreto, di 50 ettari, in maniera tale che ci sia il direttore organizzativo, cioè dobbiamo pensare anche in agricoltura, faccio l'esempio dell'agriturismo, se nessuno parla le lingue è difficile che noi possiamo comunicare, quindi poi noi siamo una provincia fortunata, avendo i due aeroporti, io mi sono occupato anche con la stampa estera che abbiamo portato in questa provincia, attraverso appunto sempre fondi comunitari e noi, dicevo poco fa, a livello appunto della vecchia programmazione ma anche di quelle precedenti, siamo l'assessorato, parlo sempre, che abbiamo speso più di tutti gli altri, non perché siamo più bravi, allora dove sta il problema? Di tutti gli altri assessori o... Degli altri assessorati, non come assessorati all'agricoltura rispetto agli altri assessorati Quindi abbiamo noi il PSR più corposo e quello dove ci sono più finanziamenti, secondo me come dice l'amico Vanella, però dobbiamo noi intravedere questo, cioè non può essere che tutti abbiano la partita IVA, tanti patentini fitosanitari, c'è tutta una serie di adempimenti che il piccolo produttore, che poi, infatti, ad ammassare l'uva, termine brutto, cioè o noi riusciamo antico rimasto, lo dico così, che io come enologo, cioè mi dà un senso di ribrezzo cioè queste preziose prodotte nostre, o Luca Fisoroglio, uso dei termini così perché sono a contatto sempre con moltissimi operatori perché facciamo anche i corsi di patentino gratuitamente a migliaia di imprenditori, di produttori, quindi la sicurezza alimentare e quindi attraverso questi programmi che vanno a fare nelle scuole poter consumare i nostri prodotti, se no anche la nostra tavola diventa un discorso americanizzato, cioè nel senso buono. Quindi quando noi parlavamo dal produttore al consumatore, anche attraverso i mercati degli agricoltori che abbiamo finanziato e mi sono occupato dei galli, quindi non più l'agricoltura che mi produce, ma l'agricoltura che porta sulle tavole i prodotti da consumare. Lo stesso fatto può avvenire del posto. Allora, sembra strano, ma è facile che i nostri figlioli, i nostri nipoti non mangiano i prodotti della nostra tavola. Ma forse anche ora succede questo, no? Da tempo, credo, no? E quindi se noi non riusciamo, come se vogliamo promuovere la dieta mediterranea all'estero e noi abbiamo un bacino di utenza, siamo ben 5 milioni siciliani, più altri 5 milioni dico vengono nel periodo estivo, quindi questo collegamento anche con il turismo, quindi qualche cosa da mangiare dobbiamo darla. Quindi collegare tutti questi progetti, che non è solamente la macchina che finanziamo, ma poi capire se noi riusciamo veramente a portare le nostre conserve, l'olio, il vino, il nostro paniere di prodotto, sulle tavole di consumazione, incominciando proprio dalle tavole dei siciliani e poi a livello europeo e così via. Se no il PSR che è presente in tutti i paesi d'Europa, non è solamente nelle fasce meridionali, se no diventa, abbiamo sempre l'agricoltura che invecchia, ma ecco sono convinto che anche ora per il posto che abbiamo come ufficio, che tantissimi giovani e anche laureati vogliono investire nell'azienda, quanto meno di famiglia. E credo che si ferma lì, perché si ferma lì. No, io era poco fa, dicevo una cosa, quindi dal mio punto di vista, descritto così, perché non ci sono problemi, tipo che senso che i finanziamenti arrivano all'Unione Europea, perché il PSR è più compresso e più grosso diciamo quello siciliano e quindi da questo punto di vista siamo fortunate che ci sono come dire più euro rispetto a altre regioni. Quest'anno abbiamo avuto pure la differenza nel discorso che anche l'Italia ha un PSR, quindi non c'è solo il PSR regionale per ogni regione, c'è anche l'Italia che ha un proprio PSR, quindi il cittadino siciliano può anche accedere a questo PSR nazionale che non si capisce esattamente anche quello come se ci deve arrivare non si sa. Anche le altre aziende agricole e le altre zone di Italia. Certo, se il cittadino calabrese potrebbe accedere al PSR nazionale ma anche il cittadino trapanese. Cioè il PSR regionale più la quota è quella nazionale. Quindi il PSR, come dire, la regione viene dato questo compito di, secondo le caratteristiche della propria regione, di formulare questi bandi. Quindi il compito della regione è questo. Io poco fa dicevo pure, come dire, qualche problema c'è. Perché c'è qualche problema? Mi cerco di capire, noi andiamo su internet ormai e vediamo esattamente 2007-2013 il PSR, i risultati di quel PSR. Crediamo che non sono stati fatti errori in quel PSR, le aziende che hanno preso i finanziamenti sono andate tutte a buon fine, i finanziamenti hanno tutte aziende agricole che oggi stanno vendendo prodotto? Dal mio punto di vista no. Sono andati a buon fine, questo è il proprio punto di vista personale, solo alcune aziende. E non per questo ci sono alcune inchieste che dicono esattamente che c'è stato qualcuno, come dire, qualcuno che era il dirigente generale della regione, che ora per fortuna non c'è più, come dire, faceva prendere finanziamenti agli amici, agli amici e parenti, agli parenti. Ma quindi questa cosa, come dicevo, non sono io come ti aveva sconfitto. Succedono queste cose? Ma ora, come dire, ora in questa nuova programmazione, mi auguro di no. Io ripeto, ripeto, bisogna aprire, quindi quando parlavamo poco fa di animazione, bisogna aprire veramente il mondo agricolo e dire giovani, anche se tu non hai la possibilità di avere un milione di euro, 300 mila euro per fare un investimento, io ti metto a disposizione una banca con la convenzione. Quindi penso a un sistema vicino all'aggoltore. Io, e questo ripeto sempre che continua a essere il mio punto di vista, non l'ho visto finora, non l'ho visto mai vicino. Ma anche come funziona? Allora, con le banche, così come era stato fatto il ritorno alle cantine sociali, il discorso di farle mettere insieme, che partiva l'iniziativa da parte della regione. Ma parliamo di strumenti privatistici. Ci siamo quindi, la regione, già fatto, l'assessorato diverse volte con le banche per quanto riguarda, per esempio, le cambiali agrarie, i problemi della siccità. Però rimane sempre un discorso che io lo vedrei più. Fra le organizzazioni di categorie, cioè creare questo partenariato permanente. Quindi dare questi suggerimenti. Ma nello stesso tempo, il fatto se vengono fuori truffe e così via, perché sono previste ben sette livelli di controllo, molto ferre in Sicilia, lo dico così, perché... Non fa piacere quindi conoscere anche alcune cose... Allora, se ci sono, è questo qua. Ma se noi riusciamo, a livello preventivo, ho fatto poco fa l'esempio, invece di dieci aziende... Io lo voglio fermare su una cosa. Poco fa parlava del GAL. Noi abbiamo il GAL, quindi, che è lo strumento che avvicina, come dire, che accede al finanziamento in modo più semplice, che ci sono i tecnici che danno le informazioni e così via. Il comune di Perosino è l'unico comune che non viene definito comune rurale, quindi non può partecipare a GAL. I marsalese, i marsalese, non possono partecipare a GAL. Possono solo partecipare a GAL. C'è stata tracciata una linea. Le zone più disagiate. Tracciata una linea che ha a che fare con la zona del Stagnone, che poi tra l'altro, come vedete, ci sono delle... E quindi quali? Una parte... No, tipo, io non so... Allora, ci sono dei parametri... Alcamo ci rientra, ci sono dei parametri rilasciati dal Ministro delle Finanze. Ci sono dei parametri per far rientrare, per esempio, la città di Trapani, che era stata esclusa e rientrata, ha fatto osservazione... Dico perché... Allora, Trapani all'interno dell'agricoltura, Marsala no... Marsala c'è solo una parte. Fateci capire bene come... Solo una parte. Non facciamo, Confuci. Allora, i gruppi di azione locale vanno a finanziare attività integrative. Quindi l'agricoltura la prenderanno tutte, ci siamo? Se noi vogliamo invece andare a intervenire su territori più disagiati e più rurali, ci sono dei parametri, ci siamo? Ci sono dei parametri che quindi vengono esitate dalla Commissione europea e vengono classificati i comuni. Quindi è una classificazione che si fa a livello ministeriale e comunitario a livello europeo. Ci siamo? Ci sono i comuni quasi tutti rivieraschi, non fanno parte dei Galli, perché sono da un punto di vista economico, quindi parametri fisici. Allora, in questi comuni vengono fatte attività integrative. Quello a cui si riferiva Vanella, no? Sì, faccio la video. Quindi i finanziamenti, l'80% è agricolo, però non è rurale. Attenzione, perché vuol dire che il reddito di quella zona, considerando poi c'è un problema di densità, dico ad esempio la densità altissima... Reddito complessivo della cittadinanza? Sì, è anche ad esempio uno dei parametri che tu mi chiedevi potrebbe essere la densità abitativa. Allora la densità di un piccolo comune rispetto alla città di Enna, pur essendo capoluogo, che è classificata di faccia di Enna, quindi ci sono dei parametri anche di densestificazione. Faccio l'esempio. Un comune che c'è il 60-70% di popolazione invecchiata, l'è necessario far rimanere, ma queste già sono delle problematiche che esulano dal fatto delle regioni. Sono aggiuntive a quelle, però l'80% dei finanziamenti sono ordinari per tutti i comuni. Per esempio noi abbiamo finanziato, dicevo poco fa, i mercati e gli agricoltori, che è uno strumento che si dà in più agli agricoltori di vendere direttamente i loro prodotti. Petrosino comunque rimane fuori, anche Marsala presumono? Sì, Marsala, Mazzara, diversi comuni sono. Diversi comuni che le mancano fuori. Se non vado errato c'è Calata Fim e Capolinia. Calata Fim e Capolinia sono dentro. Calata Fim e Capolinia, c'è Famigliana. Ci sono sei comuni fuori e tutti gli altri sono dentro. E noi abbiamo un'esperienza positiva in Sicilia, quest'anno sono stati costituiti Ben Tregal, dove tutti i comuni che possono partecipare sono tutti dentro, cosa che invece non è avvenuto nel resto della Sicilia, che pur potendo partecipare, molte comunità sono rimaste fuori. Mentre tutti i nostri comuni, isole comprese, che possono finanziarmi, io perché ho seguito da vicino la programmazione dei Galli, quindi gruppi di azione locale, il partenariato, le stanze che partono dalla base. Quindi tutte quelle attività integrative che si collegano con il turismo, per esempio abbiamo visto il restauro di tutti gli abbeveratoi. Quindi riscoprire questa cultura, quindi far venire, far visitare il nostro territorio, oltre a far vedere il vigneto, vedere questa memoria storica. Ho capito. Senta, una domanda per tutti e due. Lei voleva dire qualche altra cosa in merito? No, io volevo dire... Mi dispiace, è un fatto fisico che non dipende... No, io devo dire, nonostante tutto mi sono occupato, sarà pure il mio limite rispetto anche che devo dire che ho scoperto, non l'esistenza, che esiste il Galli, vabbè da poco, che c'è una cantina d'Alcamo, quindi la vecchia cantina vicino, mi pare, vicino alla stazione Alcamo della Nazione, che questa è la piattaforma messa a disposizione, che poi c'è stato un bando, è stato affidato. Faccio esempio, dieci anni fa Marsala faceva parte del Galli, infatti ha fatto pure un'esperienza di Galli. L'affidamento di questa... Sì, è un problema, infatti c'è un passaggio di comune che dalla fascia D, man mano che c'è l'evoluzione, e quindi i comuni che sono classificati, urbani e mediamente rurali, questi escono. Va bene, sì, abbiamo capito un po' particolare. Per sapere, la piattaforma che viene messa a disposizione del Galli, questa che c'è da d'Alcamo, quindi a disposizione dell'evolatore, che è stata affidata... A disposizione e quindi dei mercati a Verona, quindi sono sempre lavori sperimentali, dove si dà per esempio l'allocazione gratuita, che non è cosa poca, ai nostri produttori per poter vendere i loro prodotti che non sono nell'allegato uno. Dico, conosco bene la problematica perché l'ho seguita a livello di programmazione e avendola, ecco la presenza anche dei tecnici. Quindi c'è tutta una classificazione, dove sicuramente ho fatto l'esempio della città di Trapane, che quest'anno pure attraverso i borghi rurali che abbiamo finanziato in tutta la regione, quelle di proprietà pubblica, cioè quelle di proprietà dei comuni, dove far riscoprire, quindi fare tutte le attività... Ma il rapporto con i comuni com'è? Nel mondo dell'agricoltura? Per quanto poco possa intervenire credo i comuni, no? Credo, io credo, questo è una cosa che ritengo che i comuni potrebbero fare tanto per i problemi che abbiamo... Ma come promozioni? Non come promozioni, il comune potrebbe mettere a disposizione un luogo dove si parla di ricoltura, dove c'è un... io non ci conoscevamo, noi quindi ci siamo conosciuti stasera, quindi... Un centro operativo... Un sportello verde, diciamo, che gestisce. Sì, uno sportello dove... Se ne l'ha parlato in passato. Il giovane arriva. Molte volte si fa tipo solo, si parla di cose isrealizzabili. La cosa che succede un po' in Italia, parliamo magari della Sicilia, pure, è parlare di cose grandi, tipo cose che potremmo realizzare e poi le piccole cose non ci sono. Le piccole cose, dicevo questo, il rapporto con l'agricoltore che finisce a lavorare e c'è uno sportello aperto a disposizione di un tecnico che dice, senti, io ho un'azienda, cosa posso fare? Anche se... Questa non c'è. Se ne ha parlato per una volta. Già abbiamo avuto gli sportelli, dico così perché sono 32 anni che mi occupo e sono stato... mi sono occupato sempre del rapporto anche con i comuni, con le realtà... Allora, i rapporti sono buoni che abbiamo con i comuni, infatti molte delle nostre sedi oggigiorno sono allocate presso i comuni perché la regione non può pagare più gli affitti. No, questo qua già lo adottavano altri ministeri o altri assessorati come lavoro o meno, quindi questo rapporto è vicino. Poi secondo me basta fare l'istanza e nulla viene... Quindi posso dire io ho un agricoltore benissimo di raggiungere presso il comune di... c'è qualcuno che ci darà un'informazione che a Mazzara avete un ufficio intercomunale per l'agricoltura, a Marsala ne avete un altro, consideriamo insomma che dentro non possiamo avere ogni... Ma lo conferma che c'è questo ufficio? In provincia di Trapani abbiamo un ufficio... Ma no, c'era anche a Petrosino... Ma no, c'era anche a Petrosino... Ma domani lo cercherà... No, no, informe... Accompagnerò io stesso un agricoltore a prendere le notizie che ha bisogno... Allora, Petrosino aveva sino a un anno fa il suo ufficio... Allora c'è nell'accorpamento anche per un po' di rispendio che sono diventati uffici intercomunali per l'agricoltura dove ci sono le SOAT, cioè dove arriva e ci sono tutte le notizie, tutte le informazioni, quindi faccio il libretto UMA, faccio l'estirpazione, eccetera, quindi in maniera molto armonica e quindi un territorio come Marsala, c'è un ufficio intercomunale su Mazzara e c'è un altro ufficio intercomunale per quanto riguarda addirittura c'è un ulteriore ufficio che è l'unità operativa specializzata in viticoltura ed enologia. Ma lei l'ha sentita? Da domani mattina lei... No, in certe ore devo dare come dire le notizie... Sono tutti uffici là, non ne so per dire nulla, poi gli altri uffici sono ad Alcamo, sono a Saleme e sono a Castelvetrano, diciamo che su Marsala c'è l'unità, sia l'ufficio intercomunale per l'agricoltura, ma c'è anche l'unità specializzata che rimane così per la viticoltura come in altre, cioè a secondi del territorio, quindi un territorio è abbastanza servito e poi naturalmente questo fatto del partenariato nulla vieta che presso un comune si possa richiedere, ormai col decentramento all'ispettorato per l'agricoltura di Trapani, che ci sia uno sportello a Petrosino, che ci sia uno sportello a Campobello di Mazzara e così via, ma siamo una delle province, vi possiamo assicurare che c'è pure l'ufficio a Pantelleria. Passiamo? Senta, volevo dire qualcosa che io volevo fare un'altra domanda, ancora più pratica a voi due. Io spesso ho sentito dire in questi anni, per esempio, i costi di produzione che sono alti e poi alla vendita del prodotto agricolo il prezzo si abbassa sempre di più. Questo trend è stato fermato, aumentano i costi di produzione, si abbassano gli utili della vendita dei prodotti, gli agricoltori spesso li ho sentiti lamentare e abbandonare anche le campagne per questi prodotti. Dico che il settore agricolo è un settore con questa caratteristica, nel senso della valutatà di prezzi, quindi il prezzo sale, scende, quindi automaticamente... C'è la borsa, la borsa, la borsa, il prezzo, l'agricoltura, quindi questo settore sta caratteristica come dire che il prezzo non c'è, un prezzo fisso, dice io non è che domani so un prodotto quando lo vendo, quindi c'è sempre questo punto interrogativo che l'agricoltore, che è l'imprenditore agricolo. Perfetto, ma questo trend di abbassamento della vendita... I costi secondo me sono sempre elevati, ma dal mio punto di vista no. No? Lei che notizia ha? E sicuramente se abbiamo noi gli accordi, e questo qua poi diventa più politico che tecnico, di importare gli agrumi, se ci arriva il grano dal Canada, che dicono che sia pure glifosato, allora ecco l'educazione agroalimentare, quant'è il costo del pane e della farina in Sicilia? Ecco, chiediamoci questo. Lei come le risulta questa questione? Io gli posso dire che ho alcune notizie che le aranze siciliane nelle grandi distribuzioni sono state tipo a 50 centesimi al chilo. Vanno anche al mare? Sì, scusa, 2 euro e 50 al chilo. Il produttore che lo vende, forse lo vende a 10 centesimi al chilo. Una cassa di aranze che vende 10 centesimi. Noi andiamo nella grande distribuzione, il problema oggi è proprio della grande distribuzione che dirige il mercato, stabilisce i prezzi, stabilisce chi deve vendere, stabilisce nel momento in cui la Sicilia, se ci sono due agricoltori che si sono parlati e quindi cercano di fare... Manca la concentrazione dell'offerta. Manca la concentrazione dell'offerta, anche che il nuovo bando prevede questo. e la concentrazione dell'offerta, per concentrare l'offerta oggi, come faccio a incontrarmi con 10 agricoltori? Non c'è una borsa del mercato agricolo, sì. Ma ci sono le associazioni di produttori? Voglio dire una cosa. Le associazioni di produttori che hanno questo proprio indirizzo da parte dell'Unione e ne abbiamo tantissime, anche in Sicilia. Per esempio, non abbiamo mai costituito l'associazione viticole perché ci sono le catture. Lo dico sempre perché il vino ne fa fermentare un po' di più. Però le nostre associazioni di produttori che nel passato si fermavano all'Ammasso, all'Uscafazzo, come ci dicevano in provincia di Siracusa. Io uso anche i termini perché vivo in prima linea con i nostri agricoltori, anche nell'attività divulgativa ed informativa. E molti termini proprio nostri, e questo legame forte del nostro agricoltore, però il fatto di metterci insieme, l'individualità supera. Allora l'associazione che può programmare meglio, per esempio la riscoperta degli antichi grani, come facciamo? Siamo sicuri poi che la farina è quella di Tumminia di Rossello? Se ne sta parlando in questo video. Se ne sta parlando, ma questo patto... Le persone sono state tutte celieci, ora adesso hanno tutto il problema, non possono mangiare nessuno più. Il problema celieci è dovuto a un discorso che i nuovi grani che vengono, non che quello nostro aveva meno proteine, era più digeribile. Ci siamo? Perché non c'era questa problematica legata sempre alla quantità. Quindi ora noi vogliamo fare la qualità. Ecco si parla, ecco perché tutto il discorso della sicurezza alimentare. quanto costa allo Stato poi queste problematiche in sorte. E quindi c'è un progetto da parte dell'assessorato della riscoperta degli antichi grani. Da un po' di tempo ci hanno lavorato su Castelvetrano col pane nero. Ci siamo? Però noi dobbiamo dare la certezza, lo sapete che lo dà, attraverso le associazioni dei consumatori, che purtroppo rispetto a quella americana o del nord Europa, da noi non sono così forti. quello di controllare l'andamento del mercato e la grossa distribuzione, si accennava alle banche. Perché? Cioè loro possono avere il monopolio perché se io devo vendere 100 quintali di frumento non è come se ne devo vendere 10.000 quintali. Se si va in perdita come si fa a fare l'imprenditore agricolo? Non parliamo poi dell'agricoltore? No, fino a tempo fa si poteva vendere un pezzo di terreno. Ora chi lo comprava? Nell'ultimo tempi hanno venduto i diritti di rimpianto. Questa è una questione che è iniziata 15 anni fa e passa. La cosa che mi chiederei oggi come regione, se io fossi il capo dell'agricoltura, ma perché hanno venduto circa 300, non so se sono 300 etre, 400 etre, il numero esatto non si sa di diritto di rimpianto l'anno scorso, fino al 31 dicembre 2015, 2016 è stato, 2015 scusate, 2015 si poteva vendere diritto di rimpianto. Allora, in Sicilia un sacco di agricoltori hanno venduto i diritti di rimpianto, hanno sepolto la provincia di Trapani e ancora oggi c'è un altro strumento ancora per vendere i diritti di rimpianto, lo stanno facendo, ci sono gli imprenditori agricoli del nord che vengono in Sicilia a comprare adesso non solo i diritti di rimpianto, si comprano tutto il terreno perché non si può più trasferire come era una volta, quindi c'è una nuova normativa e adesso hanno capito che devono comprare tutto il terreno, poi magari il diritto di rimpianto lo andranno a mettere sempre le terre del nord e le terre nostre resteranno seminativo se c'è da seminare, quindi saranno incolte e l'agricoltore in ogni caso sarà costretto, dopo che non c'è più il diritto di rimpianto, dopo che non c'è più la terra secondo me a cambiare completamente il mestiere, a vedere come vivere. I figli, i figli, io oggi qualche giorno fa ho scoperto proprio di questa cosa, pensavo che il diritto di rimpianto ormai diventava una cosa tutta nostra, dobbiamo essere fortunati che abbiamo ancora questa forma, la provincia di Trabi è una provincia più invitata, lo diciamo anche poco fa, d'Europa, e sta perdendo secondo me, secondo me se continuiamo a vendere non sarà più così, quindi stiamo perdendo… Allora, questo è un mio pensiero personale, io non avrei fatto vendere diritti fuori dalla Sicilia, ma liberamente in un mercato… Lei li avrebbe vietati? Sì, sì, però era un fatto di armonizzazione come è avvenuto, questo è un mio pensiero strettamente personale, quello di rimanere ai diritti, essere incamerati come avviene in questo momento, da parte dello Stato, quindi da costo zero, il giovane agricoltore che vuole mettere il vigneto, il vecchio coltivatore che vuole continuare a comprare a prezzi popolarissimi, invece, quasi niente. Questo non è stato fatto? Questo qua è un fatto di ordine… Ma non ci ha pensato nessuno a farlo, com'è? Di ordine politica. Io personalmente non ne avrei fatto vendite, però non sta a me come… Però dobbiamo sapere, guardi, gli racconto una… È più una scelta di ordine politica che tecnica. Come dire, in un'assemblea dove c'erano tanti agricoltori rispetto a una fusione che c'è stato l'anno scorso, diciamo, riguardano il Marsalese tra due cantine, quindi c'era il Presidente, il vecchio Presidente che annunciava… Quindi qualche cosa cammina, si vanno sempre punificando le cantine… Di questa fusione. Io oggi sono… non farei nessuna fusione perché dal mio punto di vista se una piccola cantina o una bella struttura nuova che ha delle caratteristiche e inizia a produrre un tipo di prodotto biologico, se andiamo su internet e ci sono… come dire, la domanda del biologico è alle stelle, da tutti i prodotti agricoli, anche sopra questo vediamo le novità rispetto all'assessorato, rispetto ai fondi che vanno al biologico e vedevo in tutti quelli… li guardavo nel agricoltore, come dire, ho voluto dire qualche cosa e lì vedevo in tutte quelle facce delle persone, come dire, le persone stanche che aspettavano i soldi, non è che vedevo che erano felici perché si stavano fondendo in un'altra cantina e erano stati costretti dalle cose perché la cantina, come dire, il vecchio presidente gli ha detto se noi non ci mettiamo assieme con l'altra cantina domani non vi do neanche un centesimo di euro rispetto alla vostra produzione già precedente. Quindi c'era un bisogno e di fronte ai bisogni, lei lo può confermare, c'è poco da fare, quando c'è un bisogno non c'è più come di razionalità e finisce tutto. E questo è un caso, però ora è occasione per capire rispetto a, dicevo poco fa, il biologico, la domanda del biologico che cresce via via in tutta Europa, ma anche degli Stati Uniti, ci sono dati di tutti i settori, del settore rottofrutto, del vino, dei prodotti diciamo di micchia che hanno un mercato abbastanza sempre via in crescita, perché quella cosa, la dieta mediterranea, l'idea, l'informazione della dieta mediterranea, che il cibo fa bene, questa sta arrivando ai consumatori, meno male che sta arrivando e quindi la gente vuole consumare, vuole consumare un prodotto migliore. Però la regione siciliana, siamo fermi nel 2013, il bando 2013 rispetto al biologico, ancora gli agricoltori affettano i soldi del biologico. La polemica è di questi ultimi tempi. Non stanno, come dire, si pensa che c'è il bando 2015, mi pare 2015 è il secondo bando e il 2016 ci dovrà fare, quindi oggi c'è un mercato, tu guardi il mercato e dici il mercato ti chiede di fare il biologico, però nello stesso tempo fai il biologico, la regione siciliana dovrebbe, come dire, lontanare tutti i tipi e tutti i sistemi, perché proprio c'è una forte domanda, la nostra caratteristica di terra, di Sicilia, il sole, l'acqua che abbiamo noi, potrebbe, come dire, fare una produzione biologica al 100%, ingentivando l'agricoltore, dando i finanziamenti, dando anche i finanziamenti quelli precedenti, però siamo fermi, bloccati, affettiamo i finanziamenti. Che succede? Conosco e so che c'è stato un, come dire, si sono accordati, perché lì c'era stato magari, ora qualche informazione in più la posso acquisire, però io, come dire, agli agricoltori che mi chiedono continuamente a che punto siamo rispetto a questi fondi che dovrebbero arrivare, oggi posso dire solo, dobbiamo attendere, non posso dare una certezza. Bambino, per quello che riguarda l'intervento dello Stato dell'Europa, essenzialmente, ora, lei come l'ha visto in questi ultimi anni? Positivi o non è vero? Ma voglio dire che l'agricoltura biologica ha dato fiato alle nostre aziende che sono rimaste sul mercato, oltre che dobbiamo conquistare i mercati, perché c'è un impegno che io porto questi prodotti sulle tavole. Questo è un impegno per avere il finanziamento? Sì, signore. Poi, il contenzioso che nasce fra private e pubblici, come in tutte le cose, pare che andiamo verso la risoluzione del problema, però ecco, diventa indispensabile e così si è attivata, si è attivata la regione anche nel passato per fare aumentare questo premio biologico maggiormente per le aziende evitate. Noi ci auguriamo che dopo questo periodo, così perché appunto quando c'è un contenzioso sono stati altri agricoltori che si sentivano superati o meno, quindi non entriamo nel merito perché c'è, però già si sta superando e noi ci auguriamo che gli altri bandi, penso che il segmento dell'agricoltura biologica, come diceva Vanella, può diventare l'ambasciatore delle nostre produzioni agroalimentari proprio a livello mondiale, con le autocertificazioni, cioè quando noi cerchiamo tanti controlli ci potrebbe essere in futuro questa autocertificazione da parte delle aziende dove c'è questo patto di sicurezza alimentare e dove la dieta mediterranea diventa il biglietto di presentazione per le produzioni di eccellenza, quella appunto del grano, l'olio. Ci vogliono tempi lunghi? No, penso che col nuovo PSR siamo sulla buona strada perché si parla di chiudere la filiera, di associarsi, questo è che significa, ecco può mettere tutto assieme, perché anche il prodotto di nicchia, la riscoperta, io ho fatto la tese sui legumi, faceva l'enologo, ci sono come mai, sui ceci, cioè quindi le proteine vegetali rispetto alla carne rossa che poi dico, quindi non ce l'abbiamo contro gli allevatori perché facciamo parte tutti dal mondo dell'agricoltura, però ecco la riscoperta da parte delle nuove generazioni, ecco anche il messaggio che si lancia alle amministrazioni come la c'è nelle menze scolastiche, vogliamo utilizzare i nostri prodotti biologici nelle menze ospedaliere, quindi è questa un po' la sfida che abbiamo tutte le amministrazioni davanti, in questo patto che può essere il modello del GAL, mettere insieme pubblico e privato con un'esperienza che viene dalla base, dove il contributo sia finalizzato alla commercializzazione, produzione e commercializzazione fattiva, che sono gli anelli deboli perché ognuno pensa di avere il miglior pomodoro, il miglior vino del mondo, però quando ci ritroviamo poi nell'oceano del mercato le mille bottiglie di olio, nessuno le vuole, il messaggio che dobbiamo lanciare agli agricoltori è questo qua, mettersi insieme, fare dei patti con la distribuzione, non dico la grossa perché trova, ma quei canali che possono essere attraverso quindi un invito ai giovani, tantissima commercializzazione si fa anche via web con tutti i nuovi mezzi di comunicazione e quindi penso che l'innovazione possa... Io lo devo invitare al prossimo consiglio, appena c'è una riunione in cantina, lo invitiamo in cantina e vediamo tutta la fila degli agricoltori, vediamo che ci sono, il più giovane ha 80 anni e poi c'è quello di 75 anni, l'epoca ha parlato di età particolare, qualche giovane necessità da fare, vediamo come fa... Questi 1800 di cui parlava Cammino saranno andati da un'altra parte, i titolari rimangono sempre gli anziani e i giovani, io lo so cosa vedo per quanto riguarda... Dobbiamo essere fiduciosi... Io sono stato contattato qualche giorno fa pure da un ingegnere per dire che nella vita sta facendo qualche cosa, fa un libro professionista, però ha visto che il suocio aveva dei vigneti, il padre aveva anche altri vigneti, olivete e così via, ha detto se io adesso voglio fare la moglie, mia moglie diventa imbeditrice agricola, ma quello io non lo vedo come dire quella cosa in più che ci vuole adesso, noi abbiamo bisogno di investimenti, investimenti veri e produttivi, l'investimento che avviene per caduta, come dire, da padre in figlio, queste cose, queste sono come dire io l'investimento, lo definisco sempre l'investimento privato, io penso che deve esserci da parte della regione Sicilia, il discorso di mettersi assieme, già mettersi assieme deve essere approvato un progetto, lo studio tecnico, non so quanto vuole prima che tu dici, senta, adesso facciamo, si chiamano OP, si chiamano OP, quindi associazione produttore interpersonale, qualcosa del genere, quindi la creazione di un OP prima deve essere approvata, e il bando è la misura 16, se non vado errato, la misura 16 ne parliamo già, si pensa che non c'è neanche nel 2017, si pensa forse nel 2018. Per mettere assieme i giovani, quindi tutto ciò, quelli che si occupano anche di altri settori rispetto all'informatica e gli agricoltori, io penso che ci vuole un ruolo, la filiera che dice questo, la filiera, ci vuole, ci vuole, ma ci vuole un forte ruolo, non solo la regione Sicilia, ma ci vuole un forte ruolo dei comuni, dei sindaci, dell'assessore, ma lei l'Europa ha la stessa domanda che ha fatto a me, scusate, il progetto di filiera sperimentale non è andato in posto, perché non ci sono stati i produttori, questo qua lo dico, abbiamo fatto, era un progetto di filiera polivalente, chiamiamolo, con grande impulso, si è allenato, era un progetto sperimentale che non è andato in posto, perché non ci sono state le adesioni, va bene? Diamo questa informazione rispetto alla domanda dell'Europa, l'Europa in questa campagna diciamo 2014-2020, siamo arrivati al 2017, quindi forse abbiamo noi quanto bande abbiamo approvato la regione Sicilia? Già si parla del 2022, quindi possiamo stare tranquilli, per il tempo non ci sono problemi. E' giusto rispetto, perché poi abbiamo 20 misure, 64 sottomisure, quindi ci sono, si parla di, come dire, di un malloppo di misure, dove c'è le possibilità, ci sono le pilastri, però l'Europa finanzia una parte non più come la vecchia programmazione, finanzia stavolta, credo, l'impetuto agricolo, non vede più quell'intervento sul prezzo nel mercato, come avveniva una volta, anche se ancora alcune misure vecchie sono rimaste, rispetto alla programmazione, alcune misure sono rimaste, vede il 50% diciamo di finanzia l'imperizzatore agricolo in modo diretto, con il proprio territorio diciamo di vinicolo o agricolo di per sé, se uno ha 3 terreni prende soldi per 3 terreni, e questo c'è un finanziamento circa di 300 euro a ettaro, poi c'è questo 50% che va tutto tramite il PSR, e io, come dite, non posso, vorrei cambiare idea, anzi preferisco cambiare idea nel più breve tempo possibile, vorrei avere torto, spero che questo, come dite, questo, altro 50%, che è quella parte che dicevo io, che è l'investimento, non lo vedo, non lo vedo un accesso a credito, non è un accesso a credito facile per l'imprenditore agricolo comune, perché non è un imprenditore che ha studiato. Posso tranquillizzare la micovanella, cioè il PSR non è che nasce dall'aria, cioè il PSR nasce con tutti gli strumenti di programmazione che vengono dalla base, cioè il PSR, che poi non è altro che il prolungamento di quelli precedenti, c'è una misura 121.4.1, ha dato buoni profitti, abbiamo speso tutto per la meccanizzazione, l'innovazione, così come i giovani o l'integrazione, c'è, secondo me, la grossa novità su cui dobbiamo credere, è quello che gli investimenti devono essere produttivi e dove piano piano ci si mette insieme, iniziando proprio dai giovani, io questa speranza la devo lanciare. c'è la persona ottantenne, sarà legato però a un suo modo, cioè questi giovani di ieri e quelli che si andranno a insediare, che sarà più difficile, devono provare che il loro investimento è reale. Dobbiamo portare questo qua, lo dico in maniera molto chiara, da tecnico, cioè se noi produciamo biologico, questo prodotto biologico deve andare a finire sulle tavole dei consumatori, perché i cittadini europei stiamo pagando per il biologico, per le macchine agricole e così via. Allora, siamo in conclusione, un minuto a testa, ma conviene oggi fare l'agricoltore, l'imprenditore agricolo, intanto qualcuno lo deve fare perché dobbiamo mangiare, non è che possiamo andare a mangiare tutti quanti. Io dicevo, torniamo alla terra, sono pure appassionato adesso, mi sento dentro di me, non posso abbandonare tutto ciò che è. Lei non l'abbandona, ma. Io credo che l'agricoltore, siccome non c'è altro da fare, spero non c'è altro da fare, io non vedo il settore, non so se uno oggi… Qualcuno la deve coltivare questa terra, non è che… La devo coltivare. Dico, ma se oggi devo fare un investimento, voglio dire, mi metto come dire, voglio fare un investimento, in quale settore lo faccio? Io questo mi metto, in quale settore lo faccio? Che faccio? Mi metto, faccio l'imprenditore di che cosa? Ed il, e non può essere più. Quindi io credo che c'è questo grande tesoro che è la terra, che può produrre. Se ognuno di noi inizia a fare la prima parte, che non è stato così in precedenza, se ognuno di noi fa la prima parte, io credo che assolutamente tornare alla terra è l'unica strada che ci rimane. E poi anche l'altra cosa che, come dire, che mangiare bene diventa sempre qualcosa che fa bene alla salute. Quanto meno. Bambini. Ma io penso che gli strumenti finanziari devono servire da sostegno, però il primo sostegno lo dà l'agricoltore, l'imprenditore, che punta ai mercati. Per fare questo è necessario mettersi insieme con strumenti che possesse la cooperazione, l'associazionismo. Il patto di giorno si chiama fra tutti i componenti della filiera, quindi dei mercati sia nazionali che esteri, iniziando da quello locale attraverso i mercati degli agricoltori. Grazie a Giuseppe Gambini, grazie ad Andrea Vanella di essere ai nostri studi, spero di rivedervi anche in altra occasione. Con piacere, con piacere. E di parlarne soprattutto ancora, perché lo voglio ripetere, il cibo di cui ci nutriamo viene dalla terra. Grazie a voi che ci avete seguiti fino ad ora, l'appuntamento è alla prossima trasmissione, da parte mia è più cordiale saluto.